Il momento d'oro, la stagione dello Yomar Club continua ad avere dei riflessi anche per ciò che ti riguarda personalmente perché è arrivata questa convocazione in nazionale che è storica. Io ringrazio tutti, sono onoratissimo di andare a fare il mio primo raduno che si svolgerà il 7 e l'8 febbraio a Napoli. Speriamo bene, speriamo che prosegui questa esperienza, siamo ottimisti. A questo punto l'obiettivo per la prossima stagione, cominciando a pensare anche sicuramente alla Coppa Italia ma soprattutto poi in generale a quello che deve fare lo Yomar Club, quale può essere, quale può diventare? Nella vita ho sempre detto che bisogna sempre migliorare, l'anno scorso siamo arrivati quarti, speriamo di fare meglio quest'anno. Grazie a tutti.